Bad Buddy, chi è? È arrivato in Italia tramite una polemica social. Lui infatti lancia via il telefono di una sua fan e il motivo del gesto sarebbe veramente folle, ma è un artista molto conosciuto anche a livello internazionale tra i più ascoltati musicalmente nel corso dell'anno appena trascorso. E su Amazon ragazzi si trovano felpe, cappelli e anche solo i cd con degli sconti e la gente veramente fa sold out in un attimo. Ma vediamo il video in questione che questo qui, guardate, questa fan tranquillamente vuole un selfie con lui, ma lui gli butta, gli lancia praticamente il cellulare in aria. Iniziato nel 2023, proprio il primo giorno, e si è reso protagonista di un gesto folle che sicuramente farà parlare di lui nelle prossime ore. In queste ore infatti sta circolando sui social questo video che ritrae Bad Bunny, protagonista di un gesto davvero folle. Ha lanciato via il telefono di una sua fan. Perché? Dal video che sta circolando, sembra vestito come nelle foto caricate su Instagram e quindi nella notte di Capodanno. Presumibilmente i fatti sono accaduti in quelle ore e solo adesso il video sta iniziando a diventare virale. In ogni caso questa sua fan gli si avvicina in modo anche un po' irruento e tenendo il telefono alla terza del volto dell'artista per poter scattare un selfie. A quel punto, preso da un moto di stizza, il cantante scaraventa via lo smartphone della giovane ragazza che a libita resta senza parole. Il video è diventato virale ma lui si giustifica così. La persona che viene da me per salutarmi, a dirmi qualcosa o solo per conoscermi riceverà sempre da me attenzione e rispetto. Ma chi viene a mettermi un telefono in faccia lo considero per me quello che è una mancanza di rispetto e allo stesso modo verrà trattato da me. In questo modo. Questa ragazzi è la giustificazione che Bad Bunny ha fornito attraverso il profilo Twitter ufficiale ma che sicuramente non lo risparmierà delle critiche che sta ricevendo in queste ultime ore.